Noi siamo riusciti a far emergere da un momento di crisi, perché la crisi che esiste per le imprese esiste anche per il sistema camerale, esiste per Confindustria, però per far emergere una novità, una collaborazione che porta a una migliore qualità del dato, perché aumenta il campione, il campione rispecchia quelle che sono le caratteristiche del Cresa, che è una struttura scientifica e che quindi può garantire la qualità del dato, ma nel contempo si sviluppa in accordo con l'associazione, che ha una serie di associati, che quindi permettono la facilitazione dell'acquisizione delle informazioni. Per di più le imprese non devono duplicare costantemente le risposte, perché c'è l'indagine Confindustria e l'indagine Cresa. Questo porterà ad avere un campione più interessante, più rilevabile, in quanto ampliamo la base di rilevamento del sistema e ci porterà naturalmente ad avere dati più attendibili e soprattutto più puntuali, spacchettandoli anche in particolari settori dell'attività.